ciao allora siccome sto preparando il pranzo volevo farvi vedere una cosa questo è il colino doppio lasciate perdere il colore e siccome ho deciso di fare la pasta con piselli poi nel vasetto li devo sgozzolare voglio farvi vedere come è comodo e pratico il colino superiore perché veramente io lo uso tantissimo quando devo scolare queste cose noi piselli fagioli in scatola piuttosto che se devo togliere il liquido di conservazione dai funghetti dalle olive lo uso perché è veramente comodissimo poi volendo se volete sciacquare passate direttamente sotto il rubinetto e potete utilizzare il vostro alimento bello che pronto ve lo consiglio perché un prodotto veramente comodo poi va beh il colino è uno scuola pasta ma non solo potete sgocciolare le verdure sciacquare della frutta ai piedini così rimane sollevato dal fondo del lavandino e anche di traverso è fatto per entrare stare perfettamente in piedi in tutti i lavandini standard è veramente comodo io ve lo consiglio tantissimo buon appetito